Un ingresso contrassegnato da un'indicazione in italiano e in cinese per accedere all'ambulatorio allestito nei locali messi a disposizione dal Consolato Cinese all'Osmanoro a Firenze per la valutazione dei cittadini di ritorno dalla Cina o da altre zone a rischio con sintomi che possano far pensare alla presenza del coronavirus come febbre, tosse e problemi respiratori. L'ambulatorio attivo dal 19 febbraio è stato presentato dall'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi. Abbiamo pensato in collaborazione con il Consolato che identificare un luogo separato dai luoghi dove normalmente le persone accedono ai servizi sanitari per chi abbia qualche dubbio sulla propria salute essendo rientrato dalla Cina potesse costituire per tutti una garanzia in più, evitare che le persone vadano senza controllo al pronto soccorso. All'ambulatorio si accede gratuitamente tramite prenotazione al CUP e vi si esegue un semplice tampone faringeo da far analizzare al laboratorio di virologia di Careggi che nel giro di poche ore fornisce la risposta sull'eventuale presenza del coronavirus. Solo coloro che hanno sintomi lievi si devono recare qui, non quelli che stanno bene, solo che hanno sintomi lievi che vuol dire raffreddore, vuol dire mal di gola, vuol dire tosse, che sono la sintomatologia che colpisce in questo periodo la staggata maggioranza di tutti noi, solo in questo caso gli viene fatto il tampone faringeo. La presentazione dell'ambulatorio è stata anche l'occasione per fare chiarezza sui numeri dei cittadini di rientro dalla Cina, sono già 1200 secondo le stime della regione quelli in isolamento domiciliare a fronte dei 2500 previsti in arrivo. La comunità cinese residente in Toscana ha legami stretti con una provincia della Cina che è lo Zhejiang, la cui capitale è Wenzu. Questa provincia ha 57 milioni di abitanti, si sono registrati 1271 casi ad oggi accertati, che corrispondono a due ogni 100.000 persone, deceduti zero. L'assessore Saccardi ha anche risposto alla preoccupazione di alcuni cittadini preoccupati dalla vicinanza degli uffici in cui lavorano alla nuova struttura ambulatoriale.